ed eccoci qua vieni vieni caro Renato siamo dai ciao amici benvenuti e guardate la diretta non ho parole siamo qua della diretta box Trento Bondone 2016 dai Renato abbiamo questa bellissima 127 semplicemente fantastica amici da buscare e da mirare guardate qua carissimi amici guarda un po Renato che arriva qualcos'altro qua andiamo a vedere qua vediamo una specie di una scocca una scocca di 500 qualcosa però eccoci qua carissimi amici la Trento Bondone qua è la diretta della Trento Bondone in posto della Trento Bondone attenzione guarda qua c'è arriva sta arrivando un via buon è la diretta Trento Bondone guardate qua carissimi amici ed eccoci qua vieni vieni Renato guarda qua invece aspetta aspetta un attimo guardiamo un attimo questa bellissima FIA 127 che dicevamo ricorda un po' la nostra prima serie qua veramente bella eh amici veramente guardate qua carissimi amici insomma la diretta dai boss della Trento Bondone guardate qua carissimi amici venimo Renato è la diretta amici gustatevela gustate la diretta insomma una macchina preparata come ricco insomma però sono sempre auto interessanti della Trento Bondone insomma viene una volta dall'anno giustamente va documentato ora è Renato Trento Bondone Trento Bondone in posto Trento Bondone avanti Renato andiamo avanti con i nostri filmati ciao amici